Ok, abbiamo moltissima tipologia di tecnologia che può aiutare la compagnia o la marca per incrementare la possibilità di interagire con l'ugente e migliorare l'esperienza. Una di queste tecnologie è una tecnologia che permette di conoscere l'usuario attraverso la customer giorni dell'usuario, comprendere come l'usuario si comporta online e offline e tenere una customer giorni unica che considera tutto lo che fa l'utente o l'usuario. Questo permette di conoscere meglio e permette di poter personalizzare la comunicazione che può essere fatta in differenti canali. Quindi questa è una forma per la marca di poter essere molto ricerca dell'usuario e essere sicura di poterlo soddisfare al meglio possibile.